Si solidifica la collaborazione fra l'ordine dei giornalisti del Molise e la sezione sernina dell'Associazione Italiana Arbitri, grazie a una serie di eventi mirati ad ampliare la visuale tecnica degli operatori dell'informazione. L'ultimo aggiornamento svoltosi nella sede dell'AIA di Corso Risorgimento ha trattato argomenti legati al mondo dello sport. Si è parlato della lotta al doping, delle regole del calcio e della pallavolo, della boxe, delle bocce e di rugby. Folta la presenza di reporter e fotografi anche delle regioni limitrofe, vista l'importanza dell'appuntamento ben preparato dal direttivo dell'ordine molisano. A loro vanno i meriti di aver innestato fra i giornalisti interesse ed entusiasmo in questi momenti di alta formazione professionale. È la festa del sport, è la festa del giornalismo che parla di sport. In una regione piccola come la nostra, che la consideriamo tale anche abbracciata alle province limitrofe, ha visto molti giornalisti in erba nascere parlando di sport, iscriversi all'ordine e amplificare le proprie competenze. Ma siamo partiti un po' tutti seguendo lo sport locale e da lì avviare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione all'albo e costruire una carriera. Un altro appuntamento qui nella sede dell'AIA, una nuova collaborazione inedita con questa associazione che riscote anche tanto successo. Posso dire che l'AIA è stata molto gentile nei riguardi dell'ordine e soprattutto hanno evidenziato come molto spesso i giornalisti non canoscano tutte le regole relative al gioco del calcio. Quindi si sono fatti avanti con un corso, quello di oggi, sulle regole del gioco del pallone e soprattutto anche sul concetto di topping che molto spesso viene tralasciato dagli organi di informazione. Vorrei ringraziare il consigliere nazionale dell'ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino che ha scelto la nostra sede. Aprendo le porte ai giornalisti, secondo me anche loro riescono a vedere quanti sacrifici all'interno di questa associazione facciamo. Quindi è giusto che i giornalisti, prima di dire che c'è stato un errore arbitrale, sappiano di cosa stiamo parlando e sappiano di regolamento del gioco del calcio. Nonostante sia una piccola regione, il Molise vanta di un'ampia gamma di discipline praticate da atleti ed atlete. Può contare tanti campioni a livello nazionale e tanti campioni anche convocati in nazionale, quindi di interesse nazionale. Nello specifico mi occupo principalmente dello sport paralimbico qui in Molusiano e possiamo annoverare tanti campioni a livello nazionale e anche a livello internazionale in varie discipline tra il basket, il torbal, la danza sportiva. Questo è grazie alla professionalità dei nostri tecnici che sono comunque riusciti a tirar fuori il talento sportivo in tanti ragazzi e ragazze della nostra regione. Non sempre però le testate regionali dedicano degli spazi agli sport definiti minori, che ha denunciato Stefano Venditti. Il calcio, anche in Molise, prevale sulle colonne della carta stampata, come in quelle del web. Anche se un ragazzo o una ragazza è campione del mondo di qualsiasi tipo di disciplina, che non sia calcio o calcio a cinque, ha poco riscontro. C'è tutt'ora, tutt'oggi colleghi che ignorano queste notizie, non le ritengono degne di essere pubblicate su giornali, televisioni, online, sui social, quello che sia. Ecco, c'è bisogno di questo cambio di tendenza, questo coraggio di noi giornalisti anche a dare un'apertura di un telegiornale sportivo, di un quotidiano sportivo ad una notizia che non sia solo calcio o calcio a cinque.